E' dall'altra parte, signorata, abbastanza impegnata, signora Marina, buonasera, grazie a me per aver scelto l'Iseo, come patrici, al sera il signor Raffani di sotto a Casetta e il passaggio è a Casetta, tra l'altro abbiamo presentato un momento che a me piace molto, la Yulai X35, poi mi fa un svolto particolarissimo, molto più apprendo, e a Monteplein, a Coutinho, a Coutinho, a Coutinho, a Coutinho, non so se avete avuto modo di apprezzare le scenografie di questa organizzazione al presentatore, se avete piaciuta, non mi dico altro di fare un applauso, così vediamo anche in maggio a coloro che hanno organizzato, dall'altro noi hanno organizzato una organizzazione primavera-istate, e questa sera è un capo, per un uomo, un capo, per torna, estate, primavera, però non so se non è estate, comunque, è fresco per niente, anche la nostra cura patrici Valentina, facciamo vedere uno dei capi primaverini a Monteplein, e ora, molto, mi sembra le cittadine, no, ma sta ragazza è stata ecco presa il posto dei bambini, ecco, è la scienziata questa qui, allora, altro ringraziamento, facciamo una forza più energy drink, dopo mi sarà aperta una cantina per il tavolo, così di energizzate, saluto il signor Cicino Tussaro, qualsiasi ragazzo aver spostituzionato la serata, il Tocchio e il Tocchio, 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 Saluto Paz, cioè Enzo Tessui, sta su, ciao Enzo, l'altro che viene, a me lo vedete, proprio, un timbro, una Vigilardino che si fa al liceo del Tocchio, e un show, molto, molto bel, e gli amici di Bacca Melonario, una persona di Giovanni Zietro, dirigente dell'area Sud, grazie per la nottezza del nostro evito, e per questo passiamo alla stazione, vi faccio lasciare un volvere in abbraccio perché se l'avete trovato con noi andiamo avanti allora adesso espriamo la prima schiena che dite il numero di piedi quello che non fa vacanza da 7 o 8 anni allora siamo veloci la persona che ha venuto il viaggio mi spiagano le due persone ma non mi hai spiegato ma questo dov'è il posto per un anno? dove vanno? si può sapere o si deciderà se può sapere vieni qua vieni sul palco così ti mostrano qualcuno di voi che mi testimonia va bene allora la persona è di sesso blu c'è di sesso femminile è una ragazza che ha le va a mano fa l'imprenditrice e si chiama Alessandro Esposito c'è Alessandro Esposito 1 se non c'è passiamo avanti Alessandro Esposito 2 c'è Alessandro Esposito è un applauso sportivo facciamo questa signora vedete prego vorrei presentare di la mia famiglia che è tra l'altro il nostro ben sponso venisse qua a spingere la mano a la vincitrice si accoglie della tua padre si un altro un altro un'altra è la tua padre dell'avvocato pienese ma non è che la mia famiglia mi sono diventata con tutti i suoi che hai vado allora vabbè ha un soffolo diverso la ricorda vedi Alessandro ben trovata grazie per averci con l'eliseo il viaggio è l'offerto di gentilmente da proprio i miei bianchi ti consiglio a colmano signor Pesto allora vedi qua visto che ci sei si può sapere dove lo mandiamo è a scelta quindi sono da un weekend per le persone in tutta Italia per essere qui l'agenzia che non è grazie salutiamo questo è il diventato continuato andiamo avanti salutiamo e compiliamo a scelta a scelta e proviamo adesso con l'amministrazione di due capi a molto bene vi ricordo che la scelta vi avete compilato variati come scompo quindi altri non fanno scompo e nessuno eccezionalmente stasera hanno privilegiato gli ospiti di due di zero quindi combinando la scelta oltre a partecipare all'estrazione dei premi potete anche beneficiare degli sconti di una volta che traevi sul corso grande a due passi da due di zero quindi quindi valentina qua punti un altro questo è buono che non mi spazio e qui si estrae una schiena vediamo un po' giro per il giro allora credo che non sia male questa cosa perché si va più utile un'epoca che non è più questa valla ma Maria è la moglie dell'epoca non vale quindi la metterò fuori giusto per essere passato il giro allora senza musica contesemente la persona che ha diritto a questo capo a Montiorei è dirigente alla laureata della Radei è nella provincia di Caserta con una forte la posizionanza di Caserta e provincia con un applauso da parte dell'ultima che sono la provincia di Napoli e abbiamo un vento di rappresentanza grazie anche a Massimo di Camerini di Camerini allora sono i vice impreviari Domenico Schiamone c'è Domenico Schiamone ah sei tu ma sono i prossimi di stavo sempre guarda guardate vieni qua allora il premio lo consiglierebbe il libro sarebbe un buono e niente come fa complimenti rappresento io la zieta io sono troppo conto perché si è fatto adesso vi consideriamo una busta con il pret che viene direttamente all'Italia presso la boutique con il che si ha fatto maggiore sul plus e più passi che più di l'uomo ok grazie e buona saluta andiamo avanti l'altro capo ovviamente se esce un maschetto andiamo a non con l'altro capo che non esce a fin di bussia ok 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 allora visto che è un maschetto l'altro capo è fin di bussia andiamo a l'altro capo che non esce a fin bussia Giuseppe è il mio mi dispiace prima che non esce la finuncia la fortunata è un dirigente e di non voglio credere che la moglie vive in via senza sospitore in c e le fatte ricordi questa famiglia mia non pensate fare la buona la scoglie è chiedore perché poi nella stessa famiglia che vincano due persone vabbè vado complimenti signor padre questo andiamo là andiamo avanti adesso passiamo al gigatore se lei che la signora non è che ha messo in barco da ova così in barco di barco russo ecco avremo faremo dei carri personalizzati in barri in barri vi lo direte per te ricordiamo che sui promozioni le nuove le cure in barri x35 non esce la fiducia si è davanti allora il primo carri per questo manzaro in barri lo vince è massimiliano circa di vinciliare applausi adesso parlo lo vediamo pure così non iniziamo il show qua siamo molto buoni parco vincito Angela Natale viene a ritirare il secondo viaggio di passato il principe c'è Angela un applauso anche a lei siamo buoni terzo l'ultimo di angela è faccio di confianza terzo gruppo grande che si va giudica giuseppe le prele di far camminone non so chi sia un applauso saluto la chiamata di serbone in anonio 8.2 potete vedere le immagini di serata su questo sito i tre premi vi consiglieremo che saluteremo di saluto di vieni qua così vi consiglieremo allora amici se sarei godessi da voi e datemi un applauso direti a pausa questa ragazza non prende il peggio solo applausi grazie ciao e torniamo che questi hanno le in boutique a faccia maggiore ci siamo ci siamo in questo ammirito in proporzioni stava finale per chi fa parte della serata stavace perché c'è anche il giallo che se non mantiene con il giallo facciamo tutto allora tanto atteso tanto desiderato già è la seconda volta che abbiamo il piacere di ospitarlo qui all'inizio di Tanto Maggiore visto di lui muore un pubblico caldo ovviamente non dimostriamo perché è dall'altra parte del locale io faccio una prova un testo prova farei abbassare anche tutte le luci amico lavoratore di stavano qua con generale vai Francesca tiriamo un attimo spero perché adesso entriamo in una seconda fase ci siamo spero ripetere lo scomago e a questo punto faccio un presentatore classico c'è un giallo chiesto negli spalle tieni se vediamo ok sono tutti ci siamo signore e signori metto sbaglia è la mia fine di metto sbaglia è sì sbaglia sbaglia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.